Sì, appena finita da qualche minuto la cerimonia qui al centro sociale di Mogliano, sono con il sindaco Davide Bortolato. Sindaco, un premio speciale a questi due operai, qual è il senso? Sì, lo prevede anche la normativa, queste benemerenze civiche possono essere date a persone che si sono distinte nel campo del sociale, nel campo della cultura, nel campo politico, ma anche a persone che abbiano compiuto atti eroici. I due ragazzi, Massimo e Denis, quel giorno hanno salvato la vita di Marta di fatto, hanno visto questa bicicletta al bordo strada, potevano anche proseguire dritti e andare avanti, invece si sono fermati, hanno guardato e hanno visto questa scena tragica e hanno impedito il peggio di fatto salvando la vita a Marta. A proposito di Marta, che notizie da parte della famiglia che qui non era presente perché vuole riservatezza? Sì, da quello che mi racconta il padre, Marta sta recuperando bene, molto bene, insomma, siamo tutti vicini a lei e Marta, forza, a nome anche tuo ho ringraziato questi due ragazzi. Grazie sindaco, è proprio per questo, adesso sentiamo la voce di questi due operai che hanno prestato aiuto a Marta Novello e dopo lì nello studio. Per lei che cos'è questo premio? È un premio che abbiamo salvato una ragazza giovane e che si riprenda il più presto possibile. Senta, lei ha dei figli, cosa gli racconterà questa sera quando porterà a casa questa targa? Più che racconto, gli insegnerò a salvare sempre le persone e non rendersi mai, sempre.